Questo pro memoria italiano ha un'ambizione, raccontare fatti di oggi e fatti di ieri attraverso il racconto e c'è questo piccolo desiderio di mettere insieme un po' di economia, un po' di vita vissuta, un po' di musica. Le note di Lucio Dalla mi sembravano quelle più giuste per esprimere l'auspicio che nel 2032 non ci si ritrovi come nel 2012 a dover constatare che vent'anni dopo Mani Pulite non solo la corruzione non è diminuita ma anzi è aumentata. L'ambizione di pro memoria italiano è quella di far rivivere l'emozione di quello che diciamo nelle famiglie meridionali è il pranzo della domenica, mio padre era un uomo classe 26 e la domenica ci raccontava gli anni del liceo e gli anni dell'università che erano a cavallo della guerra, in quel racconto veniva trasferito a noi figli non solo la speranza di quegli anni ma la determinazione, il gusto della fatica, la voglia di riscatto e sono quei sentimenti che oggi dobbiamo recuperare in fretta e dobbiamo farlo perché il momento che viviamo è diverso ma con una difficoltà di livello analogo. Gli italiani si rifiutano di essere identificati con gli spaghetti al caviale di usi, 180 Euro pagati dai contribuenti Gossetti consumava una frugale colazione in una trattoria di Bologna, pagava 300 lire, pagava di tasca sua quando ho parlato di Benichella mi hanno scritto le nipote di Benichella, quando ho parlato di Vanoni mi hanno scritto la nipote di Vanoni e incredibilmente quando ho parlato di Milano mi hanno scritto tanti milanesi di ieri e di oggi e dalle loro lettere c'è un racconto vero di questo paese, c'è proprio un continuo dialogo per la gioia di ritrovarsi in questi momenti, in queste persone. La figura che per tanti motivi e in tante circostanze mi ha sempre più intrigato è quella di De Gasperi cito nel libro questa lettera che scrive dal caccia alla moglie in cui dice ripetutamente, esistentemente io posso fare solo il politico, la mia missione è la politica, vedendo come è ridotta la politica oggi come dire ricordare a se stessi e ricordare agli altri che è esistito anche un politico come De Gasperi che questa era la politica oggi in un momento come questo è veramente importante. Questi valori dell'onestà, della trasparenza ma anche questo desiderio di affermarsi con le proprie forze il gusto della fatica, la voglia di cambiare le regole, di aprire l'università, di aprire il mondo della ricerca di aprire le porte, ecco questo ci può venire da quella stagione lì dove anche chi a quell'epoca veniva un po' criticato oggi appare come un piccolo grande statista, questo misura il cammino alitroso che abbiamo compiuto e misura anche la lunghezza del cammino nuovo che dobbiamo percorrere dove ci dovrà aiutare molto l'Europa perché servirà un popolo di europei, non un popolo di cittadini europei ma io credo che serviranno molti gli italiani quindi serviremo molto noi dovremo essere seri non un giorno a settimana ma sette giorni a settimana. Grazie a tutti! Grazie a tutti!